Una vita a recuperare palloni, a inseguire sogni. Mirko Gori li ha realizzati a casa sua, davanti alla sua gente, con addosso sempre la stessa maglia, quella del Frosinone. Dalle giovanili alla prima squadra, dalla Serie C alla Serie A, dieci stagioni, forse qualcosa in più, 232 partite giocate, anche in questo caso qualcosa abbiamo lasciato per strada. Mille contrasti, almeno la metà stravinti, carattere e polmoni, corsi e qualità, gol pochi ma determinanti, vittorie tantissime, fotogrammi leggendari. Mirko Gori è stato tra i simboli del Frosinone, ieri piccolo Almatusa, oggi grandissimo allo stirpe. La sua storia, il film perfetto, il trionfo della classe operaia, dell'orgoglio ciociaro che lotta, soffre e conquista il paradiso. Il suo addio, forse un arrivederci a giugno, mette un po' di tristezza perché lascia l'ultimo titolare di quel Frosinone Lecce, l'ultimo protagonista di un ciclo irripetibile. Niente è infinito, neanche nel calcio, ma i ricordi, quelli sì, non si cancellano mai.